Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parlo di una truffa che avviene su Subito.it e vediamo come evitarla Sul canale ho già portato degli altri video dedicati a Tutto Subito, vi lascio qua sopra il link a quello dove vado a spiegare come funziona il servizio Tutto Subito mentre vi lascio sempre qua sopra il link a un altro video dedicato alla truffa della Costa d'Avorio che è un video che avete guardato in molti e che vi è piaciuto particolarmente Nel video di oggi vi parlo di un'altra truffa che avviene con Tutto Subito e vediamo insieme come evitarla Vi chiedo di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella per non perdere altri video di truffe e non solo che pubblichiamo ogni giorno su Recensioni per Scegliere qua sotto in descrizione il link al mio canale Telegram e canale Instagram dove andiamo a pubblicare offerte buoni sconto per acquistare online Se effettuate vendite online su Subito potrebbe essere capitata già anche a voi una truffa simile a questa Infatti nel momento in cui andiamo a inserire un annuncio e compiliamo tutte le domande che subito ci va a fare molti di voi vanno a inserire anche il numero di cellulare e in questo caso vi consiglio già da subito di andare a mettere sempre il numero di cellulare non visibile In questo modo saranno obbligati a contattarvi tramite la chat di subito e non potranno contattarvi fuori dal servizio di subito Se invece come capita a molti perché in automatico viene messo visibile lasciate il numero di cellulare sull'annuncio è molto probabile ricevere un contatto ed è ancora più probabile che possa trattarsi di una truffa Infatti spesso gli acquirenti che vogliono acquistare in questo modo contattandovi fuori dalla chat di tutto subito vi diranno che vogliono acquistare su Subito potrebbero magari fare alcune domande sull'oggetto magari provare anche a chiedervi uno sconto per rendere tutto più credibile e poi una volta che appunto avete deciso di andare a concludere la vendita vi invieranno un messaggio magari proprio su Whatsapp ti confermo che ho fatto l'acquisto, ho pagato l'ordine segui il link che ti metto qua sotto per confermare i tuoi dati e poi arriverà il corriere a ritirare il pacco a casa tua ecco proprio quel link che vi invieranno vi porterà su un sito che magari vi sembrerà uguale a Subito ma in realtà è un sito fraudolento, un sito ricreato identico a Subito con anche una chat di supporto che andrà a rispondere alle vostre domande quindi se voi scrivete tramite quella chat probabilmente riceverete anche risposte ma sono sempre questi truffatori che vanno a gestire anche quella chat quindi anche in questo caso il consiglio è di fare molta attenzione perché sia il sito che somiglia a quello di tutto Subito sia la chat sono fraudolente in questo caso nella pagina che raggiungerete cliccando sul link troverete un pulsante accetta fondi dove dovrete andare a inserire i vostri dati della carta di credito e andare a cliccare su accetta in realtà nel momento in cui accettate e non accettate di trasferire dei fondi sulla vostra carta ma probabilmente state accettando di effettuare un pagamento verso un'altra persona quindi fate molta attenzione se siete voi che dovete ricevere dei soldi non vi verrà mai richiesto di avere almeno 100 euro sulla vostra carta per poter ricevere questi soldi ma soprattutto non vi verrà mai chiesto di inserire i vostri dati per ricevere questi soldi se l'acquisto viene fatto con tutto Subito l'acquisto viene fatto sempre sulla piattaforma si dovrà gestire tutto sempre tramite la piattaforma di Subito e non tramite Whatsapp se vi lamentate magari della poca sicurezza cercheranno di convincervi quindi il consiglio è quello di cercare di fare sempre tutte le transazioni di vendita all'interno dell'applicazione Subito non fornire mai il numero di cellulare per dei contatti esterni per delle transazioni esterne se vi dicono che vogliono parlare potete farlo direttamente tramite la chat di tutto Subito e quindi non è assolutamente necessario fornire il numero di cellulare per altri motivi il sito è del tutto similare a quello di Subito quindi fate sempre molta attenzione se avete esigenza di contattare l'assistenza piuttosto andate sul motore di ricerca Google scrivete assistenza tutto subito in questo modo sarete sicuri di entrare nel sito ufficiale subito e poter effettuare lì una richiesta se appunto la vostra perplessità nella transazione che state effettuando è fondata o meno fatemi sapere con un commento qua sotto se anche voi siete già stati vittime di questa truffa è una truffa che in questo periodo sta girando molto quindi fate molta attenzione se avete degli amici che acquistano e vendono su Subito condividete con loro questo video in modo tale da fargli conoscere questa truffa ed evitare altri spiacevoli inconvenienti se avete subito altri tipi di truffe lasciatemi un commento qua sotto sarà un piacere poter magari creare un video dedicato alla truffa che avete subito voi se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto rispondo sempre a tutti come in ogni video per questo video con la truffa su Subito.it è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da Enrico Grazie a tutti